Sono Andrea Tarenzi, lavoro da circa 18 anni nell'area di amministrazione, finanza e controllo di data TPA. Ho deciso di partecipare al programma di mentoring perché sull'onda di una crescita professionale ho sentito l'effigenza di volermi confrontare con un gruppo di pari che affrontando le mie specie sfide potessi fornirmi strumenti nuovi perché provenienti da contesti aziendali totalmente differenti dal mio e che mi desse in qualche modo un punto di vista diverso su come affrontare i problemi che ci troviamo ad affrontare per l'appunto. E quindi creare valore per me e per il mio lavoro. Il programma di mentoring da questo punto di vista offre veramente tanto. Da una parte c'è tutta una parte formativa molto verticale sul consolidamento delle soft skills, quindi piccoli video corsi, pillole, punti di riflessione ma anche consigli di lettura. Il tutto accompagnato da una parte di workshop collettivi che ho trovato davvero molto utile. Nello specifico mi è piaciuto molto la parte in cui abbiamo sviluppato il workshop sul Parcos che mi ha spinto a riflettere su alcuni aspetti della mia personalità che non avevo effettivamente fino ad allora considerato. A questo si accompagna chiaramente il più rouge del percorso che è la possibilità di creare un rapporto informale e molto stretto con il proprio mentor. Nello specifico vorrei profittare per ringraziare il mio mentor che è Odiliero Prodini e che è stato veramente dall'inizio si è dimostrato essere una persona veramente spugnita. È sempre riuscito a trovare, nonostante i miei impegni del tempo da dedicarmi, sono riusciti a incontrarci con una certa frequenza, con una certa costanza. Mi ha invitato da lui, mi ha fatto conoscere il suo team, mi hanno dato anche degli spunti operativi per delle attività che stavo portando avanti in azienda. Cosa mi porto a casa da questo percorso? Mi porta a casa sicuramente una maggiore consapevolezza di me stesso, del lavoro che svolgo e di cosa c'è al di fuori della mia stenda. Mi porto a casa sicuramente una magnifica esperienza di crescita individuale, ma soprattutto mi porta a casa degli strumenti nuovi con cui affrontare la quotidianità lavorativa. Lo consiglio a tutti, lo consiglio a tutti perché è un programma che sicuramente può dare molto, a prescindere da quale sia il livello di seniority con cui uno lo affronta.